Poi avevo collaborato a Lanci con Graziano del Rio, quindi metteremo a frutto tutto quello che abbiamo sperimentato sul campo per cercare di arrivare a degli obiettivi. Lei si l'aspettava quando ha saputo? No, nella maniera più assoluta, non mi aspettavo nulla. L'ho saputa ieri sera, cinque minuti prima che Renzi andasse in televisione a dirlo. Cosa ho pensato? Non lo so cosa ho pensato, che era una cosa un po' incredibile, ma sembrava vera.